Un'operazione durata sei mesi e non ancora terminata ha portato all'arresto di quattro nomadi sinti, tutti del territorio cunese. Un altro complice per ora è la Titante. Era tutto ben rodato e organizzato. Ogni giorno il gruppo compiva furti tra Liguria, Toscana ed Emilia, venti quelli certamente imputabili a loro compiuti in meno di tre mesi. L'operazione è stata chiamata Zenona in riferimento al filosofo presocratico di Elea e al suo celebre paradosso su Achille e la tartaruga per via della difficoltà degli inquirenti nell'incastrare la banda. I componenti si alzavano all'alba e partivano ogni volta con diverse destinazioni ma sempre con la stessa finalità, introdursi in abitazioni private, spesso isolate, rubando denaro, monilinoro, orologi, armi, macchine fotografico e computer. In gente l'area furtiva recuperata si stima un valore approssimativo di circa 150.000 euro. Le fotografie di ogni singolo oggetto rinvenuto verranno pubblicate sul sito dell'Arma dei Carabinieri, nell'apposita sezione il cittadino, servizi, banche dati, oggetti rinvenuti, in modo che le vittime dei furti possano verificare la corrispondenza tra i beni sottratti e quelli recuperati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cuneo. Il 1 ottobre i militari della Compagnia dei Carabinieri di Alba, con la preziosa collaborazione del reparto cinofili della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Asti, hanno arrestato due persone ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione congiunta è scattata nelle prime ore del mattino di martedì, con la contemporanea irruzione da parte dei Carabinieri negli appartamenti interessati, situato ad Alba e a Grinzane. Le prequisizioni hanno portato al ritrovamento di 92 grammi totali di cocaina, una parte in ovuli già pronti per lo spaccio al minuto, altre ancora da lavorare. Sono inoltre stati rinvenuti strumenti per il taglio e il confezionamento della stessa sostanza, bilancino di precisione, coltellini, sostanze usate per tagliare la cocaina. I due uomini avevano organizzato le loro attività di spaccio nell'ambito domestico, nascondendo e lavorando la droga in casa e in casa accogliendo i loro clienti, al fine di minimizzare i rischi derivanti dello spaccio in pubblico. Nell'ambito dei controlli in materia ambientale, i Carabinieri di Somma Riva del Bosco hanno riscontrato in un'officina meccanica del luogo la presenza di diversi pneumatici usati, resti di lavorazione di materiale plastici e metallici, diverse parti di ricambio usate di ogni genere, fari, marmitte, eccetera, fusti in metallo per il contenimento di oli esausti. Hanno perciò contestato al titolare di aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti in assenza di autorizzazione. All'interno del medesimo esercizio è un altresì accertato una tenuta non aggiornata dei registri previsti per l'attività di ufficina meccanica. L'amministrazione comunale di Alba, guidata dal sindaco Maurizio Marello, ha stanziato 80.000 euro per le famiglie e 40.000 euro per le imprese maggiormente colpite dagli aumenti della Tares, la nuova tassa rifiuti introdotta dallo Stato e costruita su un nuovo metodo di calcolo non più basato esclusivamente sui metri quadrati, ma anche sulla potenziale produzione di rifiuti prodotti dal numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e su dei coefficienti per le utenze non domestiche. Tale calcolo ha comportato un sostanziale aumento rispetto agli importi versati negli anni scorsi e, per sostenere le famiglie e le imprese particolarmente penalizzate dal nuovo meccanismo della Tares, l'amministrazione ha promosso due bandi, il primo per la concessione dei contributi alle famiglie, il secondo per le imprese. Tutte le domande dovranno essere consegnate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Alba in Piazza Risorgimento numero 1, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.alba.cert.legalmail.it, allegando il modulo di domanda di concessione del contributo debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e firmato digitalmente. Ulteriori dettagli su due bandi reperibili nei prossimi giorni sul sito www.comune.alba.cn.it. Un nuovo studio esplorativo tenterà di indagare sotto la superficie della chiesa di San Giovanni di Saluzzo alla ricerca delle sepolture della famiglia Marchionale. La esumazione dei resti di Ludovico II, morto nel 1504 e di altri cinque marchesi sepolti nei due secoli precedenti, presumibilmente nell'area sepolclare sotto il pavimento della chiesa, potrebbe scrivere importanti pagine di storia locale ed estendere la potenzialità turistica del monumento simbolo del Marchesato. La delegazione FAI di Cuneo, nel calendario di iniziative volto a far conoscere i beni artistici locali, sensibilizzare la cura dei siti d'art e promuoverne la valorizzazione, si pone come cassa di risonanza per presentare gli interessanti progetti sulla cappella funeraria e la chiesa di San Giovanni. Se ne parlerà in un convegno sabato 5 ottobre alle 17 nell'antico refettorio di San Giovanni con lo stesso professor Gino Fornaciari, fondatore della paleopatologia in Italia, lo scienziato detective che ha condotto studi sui resti e mummie di sovrani e membri della corte aragonese di Napoli, sui granduchi di Toscana della famiglia Medici e sui personaggi icona della storia. Sempre più vicino al consumatore per garantire la freschezza, la tracciabilità e la genuinità dei prodotti alimentari delle aziende del territorio. A partire da domenica 13 ottobre verrà inaugurato a Monta d'Alba il nuovo mercato di Campagna Amica, dove si potranno acquistare le eccellenze della Granda, tutte rigorosamente a chilometri zero. Il nuovo mercato, realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Monta, risponde all'esigenza dei consumatori che preferiscono per i loro acquisti agroalimentari la qualità garantita da Coldiretti. Il mercato si svolgerà in piazza Vittorio Veneto, dove è già presente un attivo fiorente mercato locale con tutti i generi merceologici, la domenica mattina dalle ore 8 alle ore 12 con cadenza quindicinale fino al 22 dicembre in via sperimentale.